Il 30 settembre è ricercato in Algeria, falso allarme a Fiumicino, il comandante tirotta il volo, Parigi, il Cairo. A un lato, Allah Akbar, è attentato di ferrare l'albera in un coltello con una lama di 12 centimetri per colpire il concerto d'ordine. E' successo due settimbre fa, Milano, grazie a tutti i controlli della Polizia di Stato, l'ambito comunitana di Galona. Il cittadino algerino, 37 anni, è stato arrestato, una volta fermato, i poliziotti della DIGO salivano per quanto è l'incomparazione del volo e del DIGO. D'altro scopo che scoprendo così che il 37enne è scosciuto al corso della Polizia italiana, era destinatario a mandato di raccoglie internazionali per partecipazione all'Associazione Internazionale. L'uomo era ricercato un'opera di raccoglie internazionale di parte delle milizie dello Stato istanico, sin dal 2015 e impiegato sul fronte siro iraniero. Il 37enne, sull'isoposizione della Porte d'Appello di Milano, è stato portato nel cancere e sacchettore in attesa dell'imminente trastrimento in Algeria. Grazie a tutti i controlli dell'ordine, avanti così, seguiamo i controlli rispettivi a casa. Grazie a tutti i controlli rispettivi a casa. Grazie a tutti i controlli rispettivi a casa. Grazie a tutti i controlli rispettivi a casa.